Mi consenta solo di fare una precisazione, perché lei ha fatto delle affermazioni anche gravi, non è che qui l'Amministrazione se questo Consiglio Comunale richiede di valutare o non lo fa, questo lo scludo nel modo più assoluto, lo fa e come? Lo deve fare e lo farà assolutamente se questo Consiglio Comunale approva una mozione in quel senso, questo assolutamente, escludo l'Amministrazione Comunale di questo Comune, se questo Consiglio Comunale impegna valutare non lo faccia, questo lo chiedo, lo scludo in modo più assoluto. A me dispiace questo intendo, perché il conflitto del Presidente era ascoltare i consigli comunali che non deve essere l'Avvocato. Sto soltanto dicendo che lei ha detto che quelle sono impegni, altrimenti in questo modo qua rimanno nel vago, no, non rimanno nel vago, i beni che prende, io però, appunto, lei può dire la sua, io come Presidente del Consiglio Comunale le assicuro, le assicuro che se questo Comunale, questo Consiglio Comunale chiede alla Giunta di valutare, la Giunta lo farà, Consigliere Gilardino. Per esempio, ti ricordo che molte nozioni, anche cose più semplici, non saranno state realizzate. Forse era compito uno dei cartelli, il famoso cartello, che non è stato mai venuto. Consigliere Gilardino.